Grande Italia al Giro delle Fiandre, secondo posto di Luca Mozzato dietro Van der Poel. Un risultato a sorpresa, Mozzato ha vinto la volata del gruppetto alle spalle di VDP. Il corridore italiano classe 1998 del team Arkea sta dimostrando di essere non solo un velocista, ma anche un corridore da classiche del nord. Mentre nel Giro delle Fiandre femminile ha vinto la campionessa italiana Elisa Longo Borghini, ha battuto Nevi a Doma e si è messa alle spalle campionesse come Demi Vollering e Lotte Copechi. Dunque una grande giornata per il ciclismo italiano al Giro delle Fiandre, secondo posto di Luca Mozzato nella gara maschile e vittoria di Elisa Longo Borghini nella gara femminile.